Per cuore giallo-blu, in mezzo alla fessa della vittoria contro Ferentino, Daniele Santi ne ho convocato in nazionale, partita strepitosa, entra su una partita diciamo iniziata male e poi ribalti tutto, fai un casino della madonna. Questa è una mia qualità, cercare di cambiare ritmo, è quello che mi chiede il Pilla sempre e oggi l'ho fatto nella maniera migliore che poteva. E della convocazione nazionale, di questa bella prova di fiducia di Pilla che ti ha messo dentro, tu hai risposto alla grandissima, qua ti vogliono tutti bene che aspettano ancora il tuo autografo, è un buon momento? È un buonissimo momento, spero che duri il più possibile, la convocazione mi ha emozionato tanto e ne sono molto fiero, infatti non vedo l'ora di andare ad allenarmi con i miei ex compagni di nazionale e far vedere a Pianigiani quanto valgo. Sappiamo che sei richiesto anche in conferenza stampa, velocissimo, non possiamo non fare due parole sulla prossima partita in casa. Prossima partita in casa? Siamo tutti carichi come delle mine, siamo. Lo lasciamo a tutto il mondo, grazie Daniele, complimenti. Ciao a tutti.